All'emiciclo è stata presentata oggi la legge d'iniziativa popolare sul suicidio assistito dal coordinatore regionale della campagna per l'eutanasia legale, segretario dei radicali Riccardo Varberi. Quella per l'eutanasia legale è una battaglia che è una lunga tradizione e che sta a cuore a molti cittadini e cittadine. I radicali hanno spiegato che uno degli argini posto alla campagna per l'eutanasia legale risale allo scorso anno, quando la Corte Costituzionale fece naufragare la richiesta di un referendum su questo tema avanzata dai radicali. Per loro quello dell'eutanasia è un tema delicato che va trattato con delicatezza e rispetto. Il testo della legge d'iniziativa popolare ha raccolto un gran numero di firme anche all'Aquila, come si ricorderà. Ci furono molti banchetti di raccolta, ma il percorso è tutt'altro che compiuto perché il testo andrà discusso dall'organo legislativo e in seguito votato. Di certo, pur essendo lontani dall'avvenuta conquista del diritto all'eutanasia, hanno spiegato i radicali, la presentazione della legge è un momento importante per l'opinione pubblica popolare e soprattutto un segnale forte lanciato alla politica. Alla regione si chiede di stabilire dei tempi certi per l'iter. Oggi, peraltro, sono 17 anni dalla morte di Luca Coscioni, per cui la data è particolarmente significativa. Il segnale è importante perché, come sappiamo, il referendum sull'eutanasia legale è stato bocciato dalla Corte Costituzionale lo scorso anno e adesso torniamo a parlare di fine vita con una legge regionale di iniziativa popolare per regolamentare ciò che è già stato detto legale dalla Corte Costituzionale stessa. Sappiamo che il suicidio assistito è una fattispecie differente dall'eutanasia e questa legge di iniziativa popolare serve proprio per regolamentare ciò che a livello nazionale il Parlamento non è riuscito ancora a fare.